Musica Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati con quest'altro appuntamento con l'avvicinamento al voto. È un appuntamento piuttosto singolare nel senso che per la prima volta si sfidano qui a Udinese TV due candidati sindaco che non sono di Udinese ma sono in un paese molto importante, una città molto importante che è Tavagnacco, particolarmente abitata, particolarmente insediata e particolarmente sviluppata dal punto di vista economico. Io su Tavagnacco sono un immigrato di prima generazione ma ho scoperto che lì è stato costruito un sistema che funziona nel senso che si sta bene, c'è un'alta qualità della vita, diciamo che non mancano i servizi, insomma qualcosa che è difficilmente migliorabile. Merito dei vari sindaci che si sono succeduti da Frezza a Urbano, da Maiarelli a Pezzetta, insomma a Liruti, insomma c'è stata come dire una congiura positiva che ha portato a questo sistema. La prima cosa che chiedo a Talita Botto, diciamo che civica ma con orientamento a centro-sinistra, candidata a sindaco, è proprio questo. Come si fa a migliorare una cosa del genere? Allora, è sicuramente vero che a Tavagnacco si vive benissimo e la riprova è il fatto che io ci vivo da 40 anni e ho anche deciso di farci crescere i miei figli. Tutto questo è dovuto sicuramente ad un lavoro preziosissimo che hanno fatto, come ha detto lei, tutte le amministrazioni precedenti. Hanno portato benessere e grande prosperità a questo territorio. Negli ultimi anni però si è verificata una situazione che io direi quasi di inceppamento. Non so che cosa sia successo nella macchina amministrativa, però si era verificato un sistema che in qualche modo richiedeva un'interruzione. Ecco di cui la mia candidatura. Quindi la necessità di portare una idea nuova, un'innovazione nei modi e nei contenuti, che però non tralasciasse minimamente la continuità che c'è stato con tutto il positivo del pregresso. Allora, concretamente che cosa si può fare? Si può fare tantissimo. Innanzitutto si devono portare a termine le opere che sono iniziate da chi ci ha preceduto. Sono tante le opere pubbliche su cui si può discutere. E poi avere una visione in generale su tutti i temi, su tutti quelli che sono gli otto punti anche del mio programma, che partono dal piano dell'infanzia, passano attraverso le grandi comunità energetiche, si concludono con la rete di cura, che possano garantire ai cittadini e alla comunità del nostro territorio una visione prospettica che non termina solo oggi, domani e dopodomani, ma che è a medio e lungo termine. Cucci, anche a lei chiedo, ovviamente, siccome parte in causa, come si può migliorare? Se si deve migliorare poi? A Tavagnacco si sta bene, l'abbiamo già detto, c'è una qualità della vita elevata, coesione sociale, innovazione e anche, soprattutto, sostenibilità, sia dal punto di vista ambientale, dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. C'è un dato, che è un dato oggettivo, sostanzialmente, che lo segnala, concreto, che non lo dico io, il valore degli immobili, il valore immobiliare, del mercato immobiliare. Noi abbiamo, nonostante tutte le crisi, continua a crescere, è in costante crescita, la domanda di nuove cittadinanze, appunto, si manifesta continuamente e quindi, da questo punto di vista, questo è un dato oggettivo e significativo, tuttora presente, anzi, si manifesta ulteriormente. Per quanto riguarda quello che si può fare, ripeto, si può fare qualche innovazione ulteriore, sicuramente, e questo riguarda, certamente, la visione nell'ambito, chiamiamolo, del welfare comunale. Noi ce ne facciamo un fiore all'occhiello, questo del welfare comunale. Noi, sostanzialmente, dirottiamo il 40-45% delle nostre risorse a sostenere il welfare comunale. Quando parlo di welfare comunale, parlo di cultura, istruzione, appunto, sociale, assistenza al sociale, giovani, no? Ecco, queste sono delle risorse significative che noi destiniamo solo al sociale, destiniamo 2 milioni e mezzo all'anno del nostro bilancio. Quindi, tutto è migliorabile, tutto è sicuramente, si può ritoccare, naturalmente, sapendo che questa è la realtà. Una piccola obiezione. Nel 2015, Tavagnaco aveva 14.910 abitanti, nel 2021 14.730. È un calo minimo, però c'è. I dati anche qui vanno un po' letto. Sì, prego. Un dato è un attimino quello legato al movimento naturale, e questo negli ultimi anni, obiettivamente, per un'impennata che c'è stata dal punto di vista, purtroppo, dei decessi negli ultimi anni, ha questo significato. Se lei va a vedere il dato delle nascite, invece è dal 2015 che comincia ad avere segno negativo, quindi non è un dato attuale. E comunque, poi, alla fine, l'immigrazione sostanzialmente è superiore rispetto a quello che è l'effetto della diminuzione del dato naturale. Per esempio, lei ha tre figli. Ho tre figli. Quindi la demografia dovrebbe essere salvata? No, a parte questo. No, voglio dire, come si coniuga questa cosa rispetto a quello che si può fare sostenendo famiglia, socialità, eccetera, eccetera? Allora, ho tre figli, lavoro e faccio politica. Non è una vita facile, però è una vita che si può fare. È possibile o è impossibile fare una cosa del genere, secondo lei? Questo lo lascio, purtroppo, io non so. Prego. Se sono qua, credo che sia possibile, non sono un alieno e non vengo dalla luna. Quindi tutto è possibile e non sono soprattutto l'unica donna nel mondo che fa una cosa del genere. Ad ogni buon conto è difficile, però io sono convinta che attraverso delle progettualità concrete e il sostegno della comunità e in questo caso anche dell'amministrazione intesa come appunto ente locale si possa fare meglio. Mi spiego concretamente, lancio un dato. Asili nido nel comune di Tavagnacco pubblici 1. Posti letto per i lattanti. I lattanti sono i bambini dai 3 ai 12 mesi 5. Numero di abitanti 14,7. Credo che i numeri parlino da sé. Quindi ecco, l'intervento necessario che si deve fare è potenziare questa tipologia di servizi. Ma perché l'alternativa qual è? L'alternativa è che le mamme dopo 3 mesi tornano al lavoro e se tornano al lavoro non stanno con i loro figli e non sanno dove metterli. Se non tornano guadagnano il 30% dello stipendio. Il che significa che andiamo quindi in un tema che è anche quello della parità di genere che non viene garantito nella maniera sufficiente perché si può fare parità di genere con delle iniziative dirette. Ma ormai la storia e la dottrina ci ha insegnato che servono di fatto delle politiche indirette. Quando si dice che a Tavagnacco si sta bene si dice che magari anche da questo punto di vista qualcosa c'è. Sì, ad esempio grazie al nuovo PNRR e all'attività di progettazione a lungo termine che abbiamo col tavolo 06 che verifica le situazioni sia dal punto di vista delle attività pubbliche e private che monitorano in particolare la situazione dell'infanzia. Noi abbiamo già previsto uno sviluppo dell'asilo nido e grazie al PNRR verrà costruito un nuovo asilo nido a Feletto Umberto da questo punto di vista. E questo poi è anche un dato un po' particolare ma che segnala quello che dicevamo prima sulla capacità e sulla qualità della vita a Tavagnacco. Nel senso che è vero che abbiamo questa flessione delle nascite però per assurdo abbiamo la lista d'attesa per gli asili nido, per le scuole perché dagli altri comuni vengono a scuola a Feletto, vengono a scuola nell'istituto comprensivo di Tavagnacco che viene considerato di eccellenza e nelle scuole materne e nell'asilo nido anche in particolare. C'è un segnale abbastanza preoccupante, poi ne parlo anche con la Botto, che riguarda un'azienda in particolare anzi un fondo perché poi il mondo gira in maniera folle e quello che era chiaro fino a poco tempo fa, tipo la più grande via commerciale d'Europa eccetera eccetera comincia a mostrare alcuni segni particolari. Allora parlo dell'Aquila Capital Services, qualcosa che è una storia molto lunga che si rifà e lì partono 52 licenziamenti. Lei dice bene c'è un fondo, la logica dei fondi se andiamo a fare, lo parlo per esperienza professionale Mordi e fuggi. Ecco, un fondo che ha sede a Boston e quindi evidentemente che della realtà di Tavagnacco eccetera, evidentemente ha una visione assai poco evidente. Da questo punto di vista noi intanto diamo la massima solidarietà a queste 52 persone, al 52 famiglie e naturalmente facciamo tutto quello che il Comune può fare. Già da subito noi abbiamo attivato la Regione, l'assessorato all'attività produttiva, l'assessorato al lavoro, il 29 ci sarà un primo tavolo. Confidiamo che, perché siamo in una prima fase, che anche in questa prima fase si possa trovare una soluzione, possano trovare una soluzione. In caso contrario, noi siamo una realtà che tuttora vanta circa 2000 partite IVA. Abbiamo vissuto negli ultimi due anni due esperienze simili, una quella della Pilosio e una quella del Carefour del centro Friuli e siamo riusciti in qualche modo a garantire l'assorbimento di tutte le persone. E quindi anche in questo caso ci daremo da fare per sensibilizzare le attività. Pensi che solo sulla tre settemane, comunque in questi tre anni di Covid, sono nate 56 nuove attività. Ho capito. L'ho vista su Facebook, arringare la folla. No, parlare a chi era purtroppo colpito da questa cosa. Lei come la vede? Quello che è accaduto sia dal punto di vista economico che dal punto di vista morale è gravissimo. È gravissimo perché mette in ginocchio 52 famiglie e quindi la cosa che può fare ovviamente l'amministrazione in questo momento è intervenire secondo le possibilità che ha, ovvero farsi attiva nel dialogo come peraltro sta già facendo e cercare di ricondurre poi il tutto a portare a evitare i licenziamenti o in alternativa ad ottenere il migliore accordo possibile. In generale bisogna dire che è vero che il nostro territorio è un territorio sicuramente proficuo. Ci sono tantissime aziende, tantissime aziende di livello che possono anche garantire un facile ricollocamento. Il grosso problema però è riuscire a ricollocare a mio parere queste persone garantendo il medesimo livello occupazionale e cercando di reinserirle in funzioni che rispecchino le loro competenze. Perché io credo che il lavoro sia sicuramente prima dell'unica fonte per guadagnare il pane un valore, un valore umano che deve consentire l'autodefinizione dell'individuo. E quindi ecco sono questi gli aspetti sui quali sono fortemente preoccupata perché non so se il nostro territorio sarà in grado di ricollocare adeguamente laddove questo si renda necessario queste 52 persone che domani perderanno il posto di lavoro. Di Tedi è un'ipoteca sul futuro, è stata un'anticipazione, è stata una visione giustamente importante, come la, per restare nel discorso, come la utilizziamo, come utilizziamo questo distretto per fare il salto di qualità? Diceva prima quest'asse del Tresemane che è un asse strategico che ha un unicum sovra regionale, no? Se noi partiamo che vada via Mercato Vecchio fino a Tarcento sono un miliardo e mezzo di fatturato, 60 mila occupati. Sta modificando, ha la terza rivoluzione in atto dal punto di vista economico. È partito negli anni 60 con gli insediamenti industriali, negli anni 90 era la strada del mercato, del mercato nuovo, del commercio. Oggi sta diventando la strada dei servizi alla persona e del lavoro, no? E l'impegno che noi abbiamo rispetto alla progettualità a lungo termine che abbiamo su questo asse che riteniamo appunto strategico è quello di accompagnare questo percorso attraverso una serie di interventi che si sviluppano su tre piani sostanzialmente. Uno è quello della infrastrutturazione primaria, fogna, illuminazione, piste ciclabili. Due è quella di un'identità, quindi attraverso progetti di marketing territoriale che vengono effettuati. Tre è quello che devono metterci anche le imprese e il privato, l'innovazione tecnologica. E da questo punto di vista il DTD è vero, forse è stato il momento di partenza di questa trasformazione, ma il DTD oggi ha cambiato la sua natura, se vogliamo, o meglio, la sua competenza territoriale. Da quindi distretto delle aziende digitali esclusivamente localizzate sul territorio del comune di Itavagnacoreana, Udine, oggi è diventato classico regionale. Lei che prospettiva invece intuisce, vede in queste cose? Cioè il fatto di avere un distretto che appunto è partito bene, forse adesso siamo un po' così, no? E poi questa vocazione, le vocazioni nascono, crescono, magari si trasformano. Ecco, lei come la vede? Certo, ma la trasformazione è positiva nel momento in cui comunque si costituisce rete, no? E quindi in questo senso è vero che il DTD ha cambiato quella che è la sua struttura originaria, però non significa che quello che è diventato sia qualche cosa di peggiore rispetto a prima, anzi tutt'altro, no? Secondo me è una grandissima opportunità. Il fatto poi di avercelo sul nostro territorio non fa altro che rappresentare ancora di più l'eccellenza che siamo. Dal punto di vista in generale delle infrastrutture legate al digitale sul nostro territorio sicuramente è iniziato un percorso che dovrà essere ultimato, che dovrà essere rivolto soprattutto nei confronti delle aziende perché attraverso il digitale sappiamo che le aziende riescono a performare meglio, riescono a raggiungere risultati più eccellenti e perché di fatto il digitale consente anche ai cittadini di sentirsi più vicini all'amministrazione. Si pensi che nel nostro programma addirittura c'è l'ipotesi di identificare dei totem da poter distribuire sulle varie frazioni per fare in modo che alcune attività possano essere svolte oltre che da casa, come già è possibile, anche da alcuni centri nei quali si possono raccogliere le informazioni quasi come se ci si trovasse direttamente allo sportello del funzionario comunale. Proprio il vostro schieramento ha sollevato una questione che secondo me è abbastanza dirimente, poi ne parliamo anche con Cucci evidentemente, ed è quella della cultura. Tavagnacco dormitorio è un brutto modo di esprimersi, però qualche volta ci sta insomma, no? Per, come dire, trovare le soluzioni bisogna, come dire, impegnarsi in cultura. L'esempio di Limbergo per la fotografia, l'esempio di Civitale per il Mittelfest, l'esempio di Tavagnacco per? Eh, l'esempio di Tavagnacco per quello che il più bravo assessore alla cultura possibile riuscirà a proporre dopo un'attenta analisi, perché senza un'analisi la progettualità si chiama scommessa. Quindi non le anticipo nulla, ci sono sicuramente delle idee che abbiamo, però bisognerà fare degli approfondimenti. Non mi anticipo perché c'è paura che se ne appropriino? Sì, perché se poi me la copiano, cosa faccio? Cucci, copiate! Siamo finiti. Apparentemente il contrario, sentiamo questo. Chi ha copiato da chi? Nessuno, io sto copiando dai comuni Limitrofi, lei ha citato giustamente Sfilimbergo, ha citato Pordenone, io copio dal meglio, ma di fatto non si fa così. Quando c'è qualche cosa, qualche realtà che funziona, ci si guarda intorno e la si replica. Mi sembra che sia assolutamente lecito e che sia anche sinonimo di maturità e di crescita. Sul punto siamo tutti d'accordo, no? Cucci, può replicare quello che c'è nel programma, magari, va bene, visto che tanti, insomma, mi dicono che i due programmi sono abbastanza... No, tanti, anch'io ho visto una certa... No, però diciamo che l'attenzione... Evidentemente, se il nostro è l'originale... Facciamo così, in cosa si differenzia il suo programma come filosofia da quello del... No, il nostro programma sostanzialmente, ripeto, garantisce e vuole garantire il finanziamento fondamentale, il sostegno fondamentale a tutto quello che riguarda il welfare comunale. Questo è l'elemento che noi caratterizziamo e vogliamo caratterizzare, ma lo dimostra i bilanci, basta andare a vedere i bilanci del nostro comune. Quelli sono e lì continueremo su questa direzione. Ecco, a me sembrava un po', come dire, virato al tecnocratico il suo. A me sembra che il loro sia più virato alla comunità, è così? Ma io penso di sì, onestamente, perché... No, perché me lo chiedo, non è che io... No, no, io credo di sì, perché voglio dire, il cittadino al centro, il fatto che comunque ci vogliamo impegnare per riuscire in qualche modo a fare il possibile per ridurre le diseguaglianze, per garantire una parità di diritti e di opportunità a tutti. Basti pensare che io nel corso della presentazione del mio programma ho detto non esistono frazioni figlie di un Dio minore, le frazioni sono diverse tra di loro. Nel comune di Tavagnaco ce ne sono sette, tutte meravigliose, tutte con le loro caratteristiche che devono rimanere tali, però è fondamentale che tutti i cittadini che vivono ognuna di queste frazioni rispetto alla pubblica amministrazione si sentano trattati e considerati nella stessa modalità e abbiano le stesse effettive opportunità. Sentiamo Cucci, che credo possa dire che non ci sono serie A e serie B. Beh, ma sta di fatto che noi adesso stiamo facendo il giro di tutte le frazioni a presentare il programma. Beh, credo che in campagna elettorale sarebbe... Non tutti, non tutti, noi stiamo facendo il giro di tutte le frazioni a presentare il programma. Dove è che non è andata? Ovunque, sono andata ovunque. In piazza. Ma noi facciamo la presentazione del programma, tutti eccetera. Ma detto questo, sul fatto, lei dice tecnocratico, io non lo so. Noi abbiamo attraversato due anni, non so se si è capito, si è fermato il mondo, in cui la capacità, la rete sociale che abbiamo ha dato delle risposte impressionanti. Noi abbiamo, non sollecitati opportunamente dall'opposizione, anzi criticati perché ci dicevano che eravamo un po' timidi e invece eravamo soltanto, guardavamo avanti, sapevamo che la cosa non finiva subito. Abbiamo fatto degli interventi andando ad incrementare, grazie alle risorse del nostro comune, i bonus alimentari che venivano dallo Stato. L'anno scorso il bonus bollette elettriche con un bando che ci ha portato 407 domande a Tavagnacuccio, una cosa che non pensavamo possibile e con, appunto, provvedimenti questi sì che sono stati copiati da altri comuni. Ma allora io credo che i programmi non si differenzino molto perché in realtà se lei va a leggere i programmi di tutti i comuni, si accorgerà anche di coalizioni differenti, si accorgerà che comunque i temi centrali, bene o male, sono sempre gli stessi perché io mi auguro che chi decide di fare l'amministratore abbia a cuore e sinceramente a cuore la buona amministrazione. Ora, che cos'è che va a differenziare? Probabilmente proprio gli aspetti fondamentali di cui abbiamo parlato. Nel nostro caso due sono gli aspetti che ci differenziano, che sono la visione prospettica e la capacità e la volontà assoluta di fare rete in ogni ambito. Un'altra cosa che io ho voluto sottolineare più e più volte sia nel programma sia nella presentazione del programma è quella di non considerare mai i singoli punti come comparti stagni. Ognuno deve essere eletto, incombinato, disposto con gli altri perché altrimenti la macchina non funziona. L'amministrazione comunale è un ingranaggio complesso che richiede che ognuno dei tasselli debba essere incastrato insieme. Tre. Mi pareva divertito della cosa. No, 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 dico. O concorde? Forse era, sì, forse è. No, no, mi fa sorridere la visione prospettica, no? Allora io le cito perché non può. Allora noi abbiamo dal bilancio novembre 2022, ultima variazione di bilancio, bilancio di previsione che abbiamo approvato entro dicembre, triennale. Nove progetti di PNRR, 30 milioni di opere pubbliche programmate, previste a bilancio. Le devo ancora un passaggio sulla cultura che mi pareva interessante, il discorso che una città di 15 mila abitanti sostanzialmente non riesca a darsi, come dire, una caratteristica. Ecco, insomma. Ma noi, insomma, da questo punto di vista abbiamo comunque, e ricordiamo che questi quattro anni, tre anni, non sono stati, insomma, ordinari, no? Non sono stati grandi. Ma neanche a tolmezzo, voglio dire. Eh, appunto, ma forse, ma vabbè. Comunque noi abbiamo garantito tutta la rete del culturale, che abbiamo una rete culturale, anche l'integrata, che va appunto dalla biblioteca, la Fondazione Bon ha operato e fa le stagioni appunto che programma. Le proloco, le parrocchie, se vogliamo, l'istituto comprensivo, le associazioni, questa rete. A questa rete adesso, finalmente, dopo un percorso complesso, lunghissimo, complicato, eccetera, si aggiungerà il nuovo teatro. Ci sono percorsi complessi anche sulla piscina, mi pare. Sì, sì, sì. Un percorso complesso, anche quello. Sì, sì, sì. E sì, però sono situazioni che abbiamo ereditato. Anche l'abitare è possibile. Anche l'abitare è possibile. Era fermo da sette anni e noi l'abbiamo aperto. Finalmente abbiamo dentro i due. Cosa dicevi di questa complessità del comune? Abbiamo dentro i primi due ospiti. Ma sicuramente ci sono delle complessità. Ci sono delle complessità perché ci sono dei problemi dappertutto, però vanno affrontate. Abbiamo citato due esempi. Ok, quello che è stato fatto è stato fatto, però, come giustamente dice il dottor Cucci, dobbiamo guardare al futuro. Allora, abbiamo il problema della piscina. Il problema della piscina in qualche modo va gestito. È vero, c'è un gestore che ha in carico la piscina. Dovremo fare in modo di trovare delle soluzioni insieme a lui, sederci a un tavolo di lavoro, per fare in modo che quelli che sono gli accordi che sono stati presi nel momento in cui è stato conferito l'incarico di gestione vengano portati a termine. Erano stati assunti degli impegni, ristrutturazione interna della piscina, realizzazione di un secondo vaschino interno, di una vasca esterna. Sono passati tre anni, quattro anni, capisco il Covid, capiamo tutto, però non è stata nemmeno posta la prima, non la prima pietra, neanche il primo sassolino o il primo pensiero di un'attività progettuale. E quello che mi propongo di fare io è sedermi su un tavolo di lavoro, perché penso come se fosse a casa mia, no? Se si verificasse una cosa del genere a casa mia. Lei cosa fa col suo fornitore che magari ritarda? Si siede al tavolo e dice, cosa succede? Perché ritardi? Ma io ho bisogno di un fornitore, a dire la verità, però. Nel caso in cui il suo fornitore le portasse le piastrelle, piuttosto che... Ah, ho capito, ho capito, era una battutaccia così, insomma, no? No, ma infatti volevo solo aggiungere quello che abbiamo dovuto fare noi per la piscina, perché abbiamo ereditato una situazione, un progetto di project financing che era in essere, e sul nuovo teatro dove mancava un milione per chiudere i lavori. Abbiamo dovuto metterci all'opera, rimboccarci le mani, ma a cercare le risorse. Quindi siamo felici e oggi fieri di aver completato questi interventi. Adesso miglioreremo anche rispetto... Le faccio una domandaccia. Le piacerebbe avere una prima sindaca donna a Tavagnacco? Ah, guardi, io non è una questione di genere. Non è una questione di genere, ma penso che sia una questione di altri elementi, che siano altre le caratteristiche, le competenze, l'esperienza. Cioè, rovescio la domanda. Se lei dovesse fare un intervento chirurgico, andrebbe da un chirurgo che non è mai entrato in sala operatoria? Se dovesse andare in un tribunale, andrebbe da un avvocato che non è mai entrato in un'aula di tribunale? Se la domanda la fa a me, le posso rispondere. Che per esempio c'è stato un ministro degli esteri che faceva lo steward allo stadio San Paolo. C'è stato un ministro delle infrastrutture che faceva... Quindi io non metterei limiti alla provvidenza, magari ci sono anche... Mi pare che è una fase politica che l'abbiamo superata, che l'uno vale uno. Mi pare che l'abbiamo superata, che l'uno vale uno. E ci sono anche tante sorprese, dire la verità. E le dico questo perché, perché adesso, al di là delle battute, il problema è una macchina complessa, è una macchina complicata, intanto è una struttura pubblica, dove c'è stata un'accelerazione verticale della difficoltà nella gestione della finanza. E da questo punto di vista c'è la necessità di una mediazione continua fra quelli che sono gli obiettivi, quelle che sono le strategie da mettere in campo, quelli che sono gli obiettivi operativi. Secondo lei... Ed è una macchina che ha, ripeto, 100 dipendenti, 30 milioni di movimento all'anno, 100 milioni di patrimonio. Qui volevo arrivare, volevo dire, la macchina non è composta solo dall'autista, è composta anche da quello che mette l'olio. Lei cosa pensa di questa cosa? Io ti vedo che il leitmotiv è proprio quello del chirurgo che non saprebbe tenere in mano il bisturi. Però la responsabile legale di una multinazionale magari... Le faccio un esempio. Se lei dovesse scegliere per la cura e l'educazione dei figli, tra un'istitutrice che è prossima alla pensione e ha una pluridecennale esperienza, oppure una educatrice di 40 anni, appena fresca di studi, motivata, decisa, dinamica, che ha tutto l'interesse di prendersi cura dei suoi figli, lei quale sceglierebbe? Le rispondo io, la seconda. Ecco, meglio, meglio. Le rispondo io. Ma perché no? Perché no? Perché è diverso, è un paragone che non sta in piedi, scusi. I figli sono la cosa più importante del mondo, come per un amministratore la propria comunità. Faccio l'educatore anche, quindi. No, visto che siamo su questo argomento mi pare abbastanza interessante. Gli educatori giovanili, giovani che vedo. Visto che la risposta che hai dato è questa, cosa pensano i giovani? Che possibilità hanno i giovani? Che tipo di prospettiva è una parola che non le piace, ho capito, ma... No, 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 i giovani... No, no, come non mi piace, mi piace. Ho detto faccio l'educatore, sto in mezzo ai giovani proprio perché faccio l'educatore, e mantengo questo impegno proprio perché voglio stare a contatto con i giovani. E le dico, purtroppo in questa fase anche i giovani scontano le conseguenze di quei due anni. Io li vedo obiettivamente, sono ripiegati sui social totalmente, sullo smartphone, non riusciamo a staccarli da questo punto di vista. E quindi probabilmente qui, sì, tutte le agenzie pubbliche, private, dovranno porsi il problema di come superare questo tipo di fase e di disagio che sta creando in gran parte dei giovani. Sentiamo da lei, qualche chance bisogna darla a questi giovani oppure... Assolutamente sì, perché senza le chance non abbiamo prospettiva. Torno al discorso di prima. Allora, stiamo vivendo un periodo storico nel quale la gente non va a votare. C'è disinteresse assoluto per tutto ciò che è pubblico, per tutto ciò che è amministrativo, per tutto quello che riguarda le scelte importanti che interessano al nostro futuro. Bisogna tornare a coinvolgere i giovani attraverso la creazione di una coscienza e di una conoscenza civica. E come possiamo farlo se non consentiamo ai giovani di scendere in campo? Ovviamente, resta inteso che l'amministrazione deve comunque, poi collateralmente impegnarsi a fornire ai giovani tutti gli strumenti e un percorso idoneo a raggiungere la realizzazione anche nell'ambito della macchina amministrativa. L'usato sicuro, ancora molto, o no? Ma, io credo che per fare un buon lavoro servano tre cose. Conoscenza, esperienza e competenza. E tutte e tre, a mio parere, la mia squadra ed io, le possiamo avere. La conoscenza significa, a mio parere, aver vissuto realmente i problemi che ci sono. Andare a fare la spesa, portare i figli a scuola, dover accompagnare i genitori dal medico. La competenza è quella che si acquisisce sui banchi di scuola o comunque attraverso tutte le attività formative e l'esperienza è il saper fare. Sono convinta che nessuno, nessuno sia enciclopedico, che la cultura enciclopedica sia qualche cosa che forse appartiene al buon Dio, ma sicuramente a nessuno di terreno. Quindi l'unico modo per avere delle risposte certe ed efficaci è quello di unirsi anche nella gestione della macchina amministrativa attraverso la coesione con la propria squadra. La mia squadra ed io credo che possiamo fornire attraverso questi tre elementi la risposta giusta per l'amministrazione. Sentiamo cosa dice Cucci di questo modo di intendere. Mi riconosco perfettamente, quindi viene da quello che capisco, è Dio, cosa chi me la fa? Per cui dico va bene, l'usato sicuro, la risposta sostanzialmente stabilisce questo. Quindi non si sente offeso da questa cosa? No, 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 anzi è la mia vita normale, anzi i genitori e gli accompagnati ci mancheranno. Ancora un minuto e mezzo sostanzialmente, quindi poi ci sarà un minimo di appello, eccetera, eccetera. Il rapporto con gli altri comuni, come vede questa cosa? No, allora diciamo due cose. Noi abbiamo intanto costituito il distretto del commercio, siamo stati i primi nel momento in cui è uscita la legge Bini e il distretto del commercio con i quattro comuni, quindi Tavagnacco che è capofila, quindi abbiamo recuperato anche una centralità, una leadership, Reana, Tricesimo e Cassacco per l'attuazione del distretto e abbiamo su questo collaborato in maniera anche fattiva con il comune di Udine, perché addirittura all'inizio eravamo sull'idea di fare un distretto unico, poi Udine giustamente avendo non una realtà commerciale che si esaurisce sulla Tresemane, ma anche l'Aipacco, il centro storico, eccetera, ha ritenuto di fare il distretto autonomo, ma collaboriamo e abbiamo un tavolo comune dove ci confrontiamo tranquillamente. Sentiamo Botto, lei parla di rete, quindi la centralità è un concetto forse anche già superato, però vorrei capire che ruolo può dare istituzionalmente anche a questo nostro comune. Sono fermamente convinta che da soli ormai non si fa più niente. Sarebbe interessante riuscire a lavorare su due piani, il primo è quello di costituire una rete con tutti i comuni limitrofi, quelli che ha già citato il dottor Cucci poco fa, quindi Tricesi, Moreana, Pagnacco, con i quali si possono realizzare tutta una serie di progettualità che non solo riguardano l'aspetto del commercio e quindi tutto il discorso legato alla Tresemane, ma possono riguardare anche un'infinità di altri aspetti. L'altro elemento fondamentale però è anche quello del legame con Udine, che non è assolutamente da dimenticare. Quello che io immagino è la possibilità di uno scambio bidirezionale tra Udine e Tavagnacco. Udine è un punto nevralgico per una serie di servizi, la stazione, l'ospedale, però anche Tavagnacco può fornire delle risposte ugualmente attrattive. Nel momento in cui riusciremo effettivamente a ipotizzare e a realizzare questo scambio biunivoco tra le due realtà, secondo me avremo fatto centro e porteremo benessere a entrambe le realtà. Vi dico ancora una cosa, è un esempio bellissimo perché dobbiamo imparare dai cittadini. Sapete cosa hanno fatto le ragazze di Cavalicco quando non sapevano dove andare a giocare a pallavolo perché non ci sono sufficienti strutture nel nostro comune? Hanno bussato la porta alle ragazze che giocano a pallavolo a Reana e si sono organizzate insieme. I cittadini fanno rete, i cittadini ci insegnano quello che dobbiamo fare. Lei vuole dire che sono più avanti dei politici? Io voglio dire che i cittadini assolutamente sì che sono più avanti dei politici, se sono i cittadini che ci scelgono ci mancherebbe altro. Prego, Cucci. No, è chiaro che il politico deve gestire le situazioni, l'amministratore, perché non parliamo di politica qua, No, certo, sì, l'amministratore, sì, d'accordo. Deve semplicemente gestire le problematiche che emergono e trovare una soluzione nel modo migliore, ascoltando sempre i cittadini. La capacità di ascolto è una delle caratteristiche fondamentali che deve avere un amministratore. Torno alla botto, cosa non le è piaciuto finora di questa campagna elettorale? Non mi sono piaciuti i toni con cui è iniziata. Io credo che ci debba essere rispetto in assoluto in qualsiasi tavolo. Anche se si gioca a ramino, è utile conoscere il proprio avversario e portare rispetto dal momento in cui si pone sul tavolo la prima carta al momento in cui la partita si conclude. Cucci, cosa le... No, no, non ritengo che si riferisca a me. No, in assoluto. Io non ho mai fatto alcuna presa di posizione, quindi assolutamente... Un appello. Ah, benissimo. Allora, il primo appello è quello di andare a votare. Il voto in questo momento è fondamentale. Con il voto noi celebriamo la democrazia, celebriamo la libertà e visto quello che succede attorno a noi, mi sembra il minimo attestare questo appunto con la partecipazione al voto. Poi chiedo la fiducia rispetto a quello che si è fatto perché per proporre qualcosa di futuro, di visione, bisogna anche dimostrare quello che si è fatto. E su questa base chiedo il voto. Siamo a posto. Talita Botto. Concordo meravigliosamente con il dottor Cucci nell'appello di andare a votare. È fondamentale, è un esercizio di democrazia al quale non possiamo rinunciare. Ovviamente, se vorrete darmi la fiducia, sarò più che felice di poter servire con la stessa cura che riservo per la mia famiglia, per i miei affetti e per il lavoro che svolgo. E spero di poter dimostrare tra cinque anni e, se lo vorrete, tra dieci, tutto quello che siamo riusciti a mettere in pista attraverso la realizzazione del programma condiviso. Grazie, grazie a Cucci, grazie a Botto e a Bocca al Lupo. Grazie a Botto e a Botto.